Sicuramente sono molto contento di arrivare a una piazza storica importante come Arezzo e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. L'anno scorso sono riuscito a realizzare diversi gol e diversi assist ma sicuramente la mia capacità è anche la corsa e la quantità e sono venuto qua a dare una mano alla squadra. Conosco di vista e mi hanno detto parecchie persone la qualità di questa squadra e i nomi di diversi giocatori. Mi aspetto una crescita personale che comunque è il primo e primo anno fra i professionisti, fra i grandi ed cercherò di dare tutto a me stesso.